Benvenuti su Persona TV, nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Anche oggi vi daremo le principali news in ambito locale e questo oggi lo faremo partendo da Catania. La prima notizia ci arriva dal giornale di Sicilia, eccola qua, irregolarità igienico-sanitarie, chiusa la mensa della ST Microelectronics di Catania. Leggiamo nel pezzo per capire quello che è successo. Quando scatta il sequestro dei NAS sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie ed è stato denunciato il titolare della ditta che si occupava del servizio di refezione. Alcuni dipendenti dello stabilimento industriale hanno segnalato gravi carenze igieniche nella mensa. I carabinieri del NAS hanno eseguito una ispezione all'interno della stessa mensa di via Gorgone 36, gestito da una ditta di Albano Laziale. Nel corso di questa ispezione i carabinieri hanno scoperto che erano in corso lavori di tinteggiatura, sia nel laboratorio di produzione alimenti, in cui si confezionavano 2.500 pasti, che nella sala di distribuzione. E dunque il titolare della ditta, un 65enne, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione delle leggi in materia igienico-sanitarie. Andiamo avanti con la nostra rassegna web. Un'altra notizia che ci arriva stavolta da Live Sicilia. Si tratta di un brutto fatto di cronaca. Vessa, mamma e sorella disabile, in carcere è finito un catanese di 20 anni. Andiamo a leggere il pezzo. Nella giornata di sabato, dunque, lo scorso weekend è stato appunto arrestato un ragazzo di 20 anni, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti della propria madre e della sorella disabile, fin dalla nascita. Il provvedimento restrittivo, si legge ancora, è stato adottato al culmine di un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla locale sezione di Polizia di Stato che ha fatto luce sui continui maltrattamenti fisici e psicologici perpetrati ai danni della madre e della sorella. Il ragazzo, inoltre, negli anni aveva avuto violenze che andavano dalla distruzione di suppellettri della casa al danneggiamento dei vetri delle porte dell'abitazione, alle minacce addirittura con le armi nei confronti sia della madre che della sorella. Dopo le formalità di rito, si legge ancora su Live Sicilia, il ventenne è stato condotto presso la casa circondriale di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. E dunque andiamo avanti con la nostra rassegna web, con un altro fatto di cronaca che ci arriva da Catania Today. Operazione Vivio evade dai domiciliari, è stato arrestato un pregiudicato 25enne. Il ragazzo era stato coinvolto nel blitz antidroga che ha portato all'arresto 27 persone a San Cristoforo. Vincenzo Zuccarello, questo è il nome, ha violato gli obblighi restrittivi. Leggiamo nell'articolo, i carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 25enne Vincenzo Zuccarello, eccolo nella foto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, premessa dal GIP del Tribunale di Catania. Era finito ai domiciliari a seguito dell'operazione Vivio del 12 giugno scorso, quando i militari arrestarono 27 persone per traffico e lo spaccio di sostanze superfacenti nel quartiere di San Cristoforo. Adesso ci fermiamo un attimo nella nostra rassegna web. Abbiamo invece un contributo dalla redazione. Siamo a Mascali dove questa mattina sono stati consegnati i lavori per il centro di raccolta rifiuti. Sentiamo il servizio di Rita Patanè. Stamane in via Carlino a Mascali si è svolta la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata. Un obiettivo importante per il vasto territorio mascalese, uno spazio di 10.000 metri quadri di cui 5.000 saranno adibiti al solo centro di raccolta, i cui lavori ammonteranno a poco più di 400.000 euro. Il sindaco Luigi Messina ha commentato ai nostri microfoni l'avvio dei lavori che dovranno essere ultimati entro i primi giorni del 2019. Un piccolo escursus è doveroso perché il finanziamento è dal 2008 che c'è, era stato finanziato per un CCR da realizzare in un luogo non idoneo e quando due anni fa abbiamo iniziato tutto il percorso per il CCR ci siamo accorti che il luogo che era stato scelto nel 2008 non era idoneo e pertanto abbiamo dovuto fare delle modifiche dello strumento urbanistico, farlo approvare a Palermo e pertanto con l'approvazione a Palermo abbiamo potuto spostare tutto quello che era il finanziamento del progetto in quest'area che è di proprietà comunale senza aver speso un euro per il terreno e questo è un altro aspetto importante. Questa amministrazione insieme all'assessore Cardillo, insieme a tutta la Giunta e grazie anche al lavoro enorme fatto dai tecnici siamo riusciti a mettere in gambo l'appalto che dovrà essere finito entro fine dicembre. Lo strumento del CCR diventa essenziale per raggiungere quegli obiettivi che sono la differenziata, l'organizzazione della differenziata. Raggiungere quegli obiettivi significherà abbassare le tasse ai cittadini, consentire un miglior servizio nel tempo, dare la possibilità a ognuno di avere uno spazio dove conferire durante la settimana quelle che sono le varie tipologie di differenziate che vanno collocate direttamente attraverso il CCR. È in un luogo centrale a livello di quello che è il territorio, anche se il nostro territorio è molto vasto, però da considerare che è a confine con Nunziata, cioè molto vicino a Nunziata, che è uno dei grossi centri, ma il grosso della popolazione, circa 10.000 abitanti, siamo nell'area tra Mascali, Fondachello e Carrabba, più San Dandonino che è proprio a confine con quest'area. Pertanto noi serviamo già l'80% della collettività attraverso questo servizio. Ci stiamo organizzando attraverso risparmi per vedere come migliorare e dare qualche opportunità in più nelle zone alte perché è ovvio che essendo un territorio così esteso di 38 km2 qualche difficoltà rimarrà e dovremmo utilizzare in sinergia col CCR che viene realizzato qui delle magari mini isole ecologiche che possono essere più a servizio dell'area. Presente oggi anche l'assessore all'ambiente Alberto Cardillo che ha spiegato come funzionerà il centro e cosa cambierà nel servizio di raccolta. Il CCR sarà una struttura che sarà da fondamentale ausilio per il porta a porta. Questo significa che il porta a porta continuerà e avrà l'ausilio di una struttura che permetterà ai cittadini tutti i giorni della settimana di poter conferire i materiali riciclabili all'interno di questa struttura senza dover attendere le date del calendario. Questo significa una maggiore comodità, un efficientamento del servizio, una riduzione dei costi per l'ente e una riduzione anche sostanziosa della tassa sui rifiuti. Tutti i cittadini saranno forniti di un badge sulla quale si riscontreranno le quantità di materiali conferiti e sulla base di questi ci saranno anche delle ulteriori riduzioni in bolletta. Questa è una struttura che è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione, un lavoro molto, direi, istangabile da parte dell'ufficio competente. A partire certamente dall'inizio dell'anno prossimo avremo una struttura all'avanguardia che proietterà Mascali ad avere la struttura più moderna che ci sia nella nostra zona in tema di ecologia e che ci permetterà a un comune come il nostro che già veleggia stabilmente sopra il 50% di raccolta differenziata di potersi attestare in proiezione certamente intorno al 75% per l'anno prossimo. E questo significa avere un ambiente più pulito, significa avere un servizio che costa meno e significa anche per i cittadini avere minori costi. E dunque questo era il contributo di Rita Patanema. Rimaniamo per un attimo a Mascali dove questa mattina la Polizia Comunale e la ditta ecologica sono intervenuti in via Spiaggia a Sant'Anna dove è stata scoperta una discarica di rifiuti non conformi. Sono in corso attualmente gli accertamenti per identificare i responsabili dello scarico. Presenti sul posto il sindaco Luigi Messina e l'assessore all'ambiente Alberto Cardillo. Mentre ne vedete nelle immagini appunto quello che è successo oggi dove tra l'altro sono anche stati aperti alcuni sacchetti. Un altro contributo dalla nostra redazione stavolta di Marina Scordo. Andiamo a Santa Venerina dove è stata approvata una nuova convenzione di segreteria con il comune di ACI Sant'Antonio. Vediamo il servizio. Il comune di Santa Venerina recede unilateralmente dalla convenzione di segreteria generale con il comune di ACI Bonaccorsi che era stata sottoscritta lo scorso mese di febbraio. Approva dunque lo schema per una nuova convenzione associata con il comune di ACI Sant'Antonio. La deliberazione consigliare è stata approvata nei giorni scorsi con i voti favorevoli di sei consiglieri di maggioranza presenti in aula. Assenti Giuseppe Freste e Alfio Di Paola mentre i quattro consiglieri di minoranza si sono astenuti dal voto. Con la nuova convenzione approvata il segretario generale Nerina Scandura titolare della segreteria del comune di Santa Venerina svolgerà le sue funzioni presso il predetto comune e quello di ACI Sant'Antonio. Ciò comporterà un significativo risparmio di spesa fra i due enti. Con la presenza del segretario al comune di Santa Venerina per 18 ore settimanali e per le restanti 18 ore la sua presenza al comune di ACI Sant'Antonio. Con l'approvazione della convenzione da parte di entrambi i comuni il comune di ACI Sant'Antonio assumerà il ruolo di comune capofila. Gli oneri relative al trattamento economico del segretario generale graveranno per il 49% sul comune di Santa Venerina e per il 51% su quello di ACI Sant'Antonio. Il comune capo convenzione, cioè il comune di ACI Sant'Antonio erogherà inoltre per intero le competenze economiche dovute al segretario mentre il comune di Santa Venerina dovrà provvedere a rimborsare all'altro comune la propria quota. La durata della convenzione è fissata in tre anni. Anche il comune di ACI Sant'Antonio ha approvato dunque in consiglio un'analoga proposta di delibera. Adesso gli atti dovranno essere trasmesse alla prefettura di Palermo ex sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e al Ministero dell'Interno per i provvedimenti di competenza. A loro spetta infatti l'ultima parola al riguardo. Prima di riprendere la nostra rassegna web c'è una comunicazione che arriva dal comune di Giarre. L'amministrazione comunale informa la cittadinanza che viene temporaneamente sospesa l'attività di assistenza domiciliare comunale in favore di anziani e disabili. Purtroppo la dichiarazione di dissesto, si legge nella nota, avvenuta nello scorso mese di luglio non permette di trovare le coperture finanziarie per mantenere la continuità del servizio fino alla fine dell'anno. Gli uffici stanno predisponendo un nuovo bando per riavviare in tempi brevi l'assistenza domiciliare che intenzione dell'amministrazione comunale salvaguardare e proseguire. Adesso invece ripartiamo con la nostra rassegna web. Ci sono ancora un paio di notizie da leggere insieme. Questa ad esempio ci arriva dal sito vai taormina.com alerta meteo a Taormina dal 2 al 4 ottobre. Il sindaco Bolognari raccomanda massima prudenza. Andiamo a leggere appunto il pezzo. Il sindaco Mario Bolognari a seguito dell'avviso diramato da parte della protezione civile regionale del 2 ottobre considerato che si prevede a livello di allerta arancione con condizioni meteorologiche avverse a partire dalla serata di 2 ottobre ovvero di ieri e per le successive 24-36 ore raccomanda di attenersi alle seguenti norme comportamentali di autoprotezione. Evitare ad esempio di soggiornare nei locali semi interrati o garage, prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, evitare l'uso di automezzi privati e limitarne l'utilizzo esclusivamente a situazioni di necessità. Evitare inoltre di uscire di casa se non in caso di estrema necessità, non sostare su ponti, argini o rivi di corsi d'acqua, non percorrere un passaggio o guado durante o dopo un evento piovoso. Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere gas ed elettricità. E dunque dopo le raccomandazioni del sindaco, adesso invece facciamo un salto in casa Giarre, parliamo in questo caso di calcio, il Giarre che viene dalla prima vittoria in campionato e ci sono le reazioni che arrivano appunto dalla pagina Facebook ufficiale della società Giallo-Blu, le reazioni dei dirigenti dopo la bella vittoria contro il Marina di Ragusa. Ad esempio il responsabile dell'area tecnica Emanuele Merola dice a livello fisico e mentale stiamo bene, il gol realizzato in Coppa da Leo è stato fondamentale per l'intero gruppo, ci siamo sbloccati e qui Merola mette in primo piano quella che è una problematica che al momento riguarda il Giarre, ovvero l'impossibilità di utilizzare lo stadio regionale. Dunque questa è una problematica, si legge, che ci costringe ad allenarci a cambiare spesso terreno di gioco. Merola insomma è abbastanza critico e ha ovviamente ragione su questo argomento, ma poi si proietta anche sulla prossima gara di domenica contro il Palazzolo e dice la gara di domenica sarà uno snodo cruciale, con una vittoria rilancieremo le nostre ambizioni per i primissimi posti, in caso contrario comincerà per noi un campionato sempre da vertice. C'è anche una redichiarazione da parte della direttore generale Vincenzo Pagano che dice la vittoria di ieri, in questo caso si tratta della vittoria con la Marina di Ragusa di domenica, vale doppio perché è ottenuta contro una squadra in salute. Ovviamente il direttore parla anche di alcuni singoli come Marco Spampinato, autore del primo gol contro il Marina di Ragusa e dice si allena in silenzio con impegno e sacrificio tutta la settimana e il mister che si accorge di tutto fa bene a dare fiducia al ragazzo Pagano che spende parole di elogio anche per Daniel Aleo, piano piano dice sta riprendendo la condizione, è un guerriero che lotta per la squadra, non potrei essere più felice del gruppo di giocatori che abbiamo. In basso ci arrivano anche le dichiarazioni di Marco Coppa, ovvero l'allenatore della Giarre che è soddisfatto della crescita della squadra e dice stiamo crescendo sotto tutti i profili e siamo contenti di questo ma siamo pure consapevoli della difficoltà di questo campionato. Lo dimostrano i risultati delle altre squadre, bisogna avere tanta umiltà e allo stesso tempo presunzione dei nostri mezzi. Sembra una contraddizione ma in realtà non lo è. Tornando ancora sulla vittoria contro il Marina di Ragusa, mister Coppa ha voluto elogiare il portiere del Giarre Colonna che ha salvato il risultato parando un calcio di rigore. Dice Coppa la parata di Colonna su calcio di rigore per loro vale come un gol in rovesciata. Questa era la nostra ultima notizia di oggi. Io vi ricordo che l'appuntamento come sempre è su Persona TV alle ore 14. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do l'appuntamento a domani. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ringrazio per essere stati con noi.